A due giorni dall'ultima rapina, alla pompa di benzina Beifin di Pizzoli, parla il gestore Enrico Pistilli. I due malviventi erano incappucciati e avevano l'accento straniero, ha detto Pistilli, che continua Non ci sentiamo affatto sicuri in questa città, avevamo già subito altri due furti prima della rapina. Mi auguro che aumentino i controlli delle forze di polizia. Arrivati a bordo di una Fiat Punto Bianca in pieno giorno, i due uomini, dopo aver minacciato con un coltello un suo dipendente, lo hanno legato e imbavagliato, prelevando dalla cassaforte l'intero incasso del weekend, circa 27.000 euro. Nonostante lo avessero legato, è riuscito a infilare la mano nella tasca e a dare l'avvio all'ultima chiamata effettuata a un suo collega. Poi è scattato l'allarme alle forze dell'ordine, ha spiegato Pistilli. Oltre al denaro, i rapinatori hanno portato via il videoregistratore che conteneva le immagini delle telecamere a circuito chiuso. Non abbiamo più nessuna immagine dell'accaduto, ha commentato Pistilli. Da oggi aumenteremo la sorveglianza dei nostri distributori e faremo ritirare quotidianamente gli incassi dall'istituto di vigilanza.